Grazie Tukka a me. In questi anni ho avuto l'opportunità di conoscere Don Titus e come credo sia stato detto, ma io non capisco lo slovacco, scrivere la posizio di Don Titus. Sono stata aiutata tanto in questo da alcune persone e vorrei ricordare Mikhail Radoshinsky che ha lavorato molto per la fase diocesana del processo, ha scritto una biografia importante a cui si è attinto per il processo e poi Elena Baratova che ha scritto con me la posizio e si è occupata in particolare di tradurre i documenti per il Vaticano, di introdurli. Questi passaggi sono stati molto importanti perché per capire la testimonianza fino alla morte, fino al dono della vita di Don Titus, occorreva capire in quale contesto questa sua offerta è nata e per chi lui ha donato la vita. Dicevo ieri, parlando ad altre persone, che poco prima di uscire di casa per prendere l'aereo e venire in Slovacchia due giorni fa, ho ricevuto la lettera di una persona che ha letto il libro su Don Titus e ha voluto mandarmi una condivisione, un messaggio. Mi diceva come per lui fosse stato molto duro arrivare alla fine del libro perché non riusciva a capire come l'essere umano possa infierire con tanta crudeltà su un'altra persona, in questo caso Don Titus. E anche come Don Titus abbia potuto ricevere tutta questa sofferenza e diremmo nonostante questa grande sofferenza continuare a dare una testimonianza di fede anche nella gioia. Vorrei lasciare un momento in sospeso la risposta a questa domanda che darò fra alcuni minuti e dire brevemente in che cosa consiste il martirio. Voi sapete che oggi il martirio è una delle due strade possibili nella Chiesa per arrivare alla beatificazione e alla canonizzazione. L'altra strada in senso tecnico è quella delle virtù eroiche dei confessori della fede, cioè persone che nell'ordinarietà della loro vita hanno incarnato la pienezza del Vangelo. Il martirio è una vocazione che il Signore dà ad alcuni e credo che consista in un particolare rapporto di vicinanza e di amore con il Signore Gesù, proprio nella sua passione e nella sua morte. E Don Cameroni citava queste due lettere molto importanti nella vita di Titus, in cui lui passa tra il 21 e il 26 gennaio del 1951, a pochi mesi dalla cattura, da una lettura molto umana della sua vita, una lettura forse così vicina a quella che ciascuno di noi è tentato di dare, a una lettura totalmente guidata dalla parola di Dio che lui veramente prende alla lettera. Ve lo provo a dire in modo un po' estremo, un po' forte. È come se Titus ricevesse la grazia di questo salto di qualità nella propria fede, nella propria testimonianza della fede, nel momento in cui gli è dato di comprendere che il Vangelo funziona davvero se noi lo viviamo alla lettera, non se ne facciamo un'interpretazione che va bene per noi. Nel Vangelo il Signore dice di dare la vita per i fratelli. E mentre all'epoca di Titus altre persone si chiedevano cosa fare per gli altri, quindi quale pezzo della propria vita dare, senza però impegnarla tutta, Titus con altri, per esempio Don Ernest Mazzac e molti altri testimoni, hanno preso il Vangelo alla lettera, cioè l'hanno impegnata tutta, come dice Gesù. Però anche per Titus è stato un cammino. Noi con il Vaticano abbiamo dovuto dimostrare tre aspetti perché lui potesse essere definito martire. Innanzitutto un aspetto materiale, cioè si doveva dimostrare che Titus, quel gennaio del 1969, è morto a causa delle persecuzioni, delle torture, degli interventi medici, dei medici lesivi della sua persona voluti dal regime. E questo all'inizio non era facile perché, a differenza per esempio di uno degli ultimi martiri salesiani, Stefan Shandor, che ha vissuto in Ungheria, non lontanissimo da qua, Titus non è stato giustiziato sul patibolo un giorno X della sua vita, ma è morto in conseguenza di ben 13 anni di torture e quasi 5 anni in libertà condizionata, in cui viveva Vainori, però sempre perseguitato in modo molto duro dal regime e alla fine venendo usato come cavia per un esperimento medico. Quindi c'è questo aspetto. Noi si è dovuto dimostrare, siamo riusciti a dimostrare che Titus è morto perché il persecutore voleva che morisse ed è riuscito in questo intento senza però un'azione diretta, ma facendo in modo che la salute di Titus si rovinasse giorno per giorno per 18 anni. C'è un documento molto forte che è stato credo scoperto quando il processo era già in corso, in cui nell'autunno del 1969 il regime comunista applica improvvisamente ad un Titus un'amnistia, amnistia, concessione di grazia, amnistia, che però era stata proclamata circa sei mesi prima dal regime. Quindi non so in slovacco come si dica un'applicazione retroattiva. Poche settimane dopo Titus muore. Quindi questo ci ha permesso di dimostrare che il regime seguiva con molta attenzione l'evolversi della condizione di salute di Titus e quando ha capito che ormai Titus era prossimo alla morte ha fatto in modo che morisse formalmente graziato dal regime, cioè che non ci fosse più nulla tra lui e il regime. Ma naturalmente era una mossa politica e non crediamo che Titus abbia mai saputo di questo documento. Quindi vi ho già raccontato il secondo elemento del martirio, che è un elemento formale, cioè si doveva dimostrare che Titus è morto perché il regime ha voluto colpire in lui un testimone scomodo della fede. Però poi c'è l'aspetto diciamo più importante per quanto riguarda la vita di Titus, perché il vero martire è colui che impegna tutta la propria vita fino alla morte se necessario in unione al Signore Gesù per la Chiesa, per ogni uomo a testimonianza della fede. E questo risulta molto bene dalle parole di Titus, dalle sue lettere e soprattutto, come abbiamo sentito da Don Cameroni, dalle sue scelte quotidiane di vita. Titus credo fosse un uomo di poche parole, ma parlava molto attraverso le sue scelte, attraverso i gesti che compiva. Di Don Titus un testimone interrogato per il processo dice una cosa molto bella. Dice che Don Titus era santo ed è morto martire. E anche quando, credo Don Cameroni è stato in Vaticano per parlare recentemente della causa, il promotore della fede, che è la persona responsabile anche di sollevare alcune obiezioni contro i candidati agli altari, ha confermato questa lettura dicendo che la causa di Don Titus sarebbe andata avanti anche per le virtù eroiche. Cioè veramente Don Titus ha vissuto una vita con la pienezza della santità, sia nell'ordinarietà dei giorni, sia in questa chiamata al martirio. Allora chi è il martire? Vorrei provare magari a lanciare alcune parole di sintesi che possano servire anche per il dibattito o per delle domande dopo. Anzitutto penso che il martire è una persona che compie il proprio dovere, che sta al proprio posto. Cioè il martirio di Don Titus non è nato perché lui un certo giorno ha deciso di volersi atteggiare ad eroe e iniziare a fare cose molto particolari e che magari non gli erano richieste. Ma Don Titus ha semplicemente, ma in quel semplicemente c'è tutto, è provato a essere un buon salesiano, un buon salesiano sacerdote. E quando durante appunto la notte dei barbari tutti i suoi confratelli, con molti altri religiosi, sono stati presi e chiusi nei luoghi di concentramento, Don Titus non per propria decisione ma per obbedienza anche a quello che i superiori gli avevano chiesto, si trovava in aiuto a una parrocchia diocesana. Quindi il regime non prende anche lui. E allora Titus inizia proprio a chiedersi che cosa potesse fare grazie a questa sua condizione di libertà per aiutare gli altri. Da lì nasce il suo martirio. Quindi Titus è una persona che è restata per dovere, ma soprattutto con un amore grande là dove la vita l'aveva chiamato. E allora il martirio è anche una vocazione nella vocazione. Perché anche Titus deve accettare questa cosa grande che gli sta succedendo. deve imparare a dire di sì. E la risposta di Titus vive dei momenti di grande gioia, di grande forza, ma anche delle fatiche, delle tentazioni, dei dubbi. Che però lui porta sempre nella preghiera e in un dialogo di fede. All'inizio ho condiviso con voi la domanda che mi è arrivata in questa mail. Come può l'uomo, l'essere umano, fare così tanto male ad altri uomini? E come ha fatto Titus, come fa un essere umano, a ricevere tutta questa sofferenza senza maledire, senza odiare? Titus stesso ci racconta come lui ha fatto. E questo è emerso proprio dalle testimonianze e dai documenti della causa. Vi cito due esempi, perché credo che gli esempi restino di più di tante parole. Anzitutto, Titus, in un periodo in cui è in carcere e viene torturato in maniera feroce, per ogni tortura, per ogni periodo di torture, crea con un po' di pane una pallina e mano a mano unisce queste palline con un filo fino a formare una specie di rosario che dovrebbe avere più o meno 58 grani. Quindi potremmo dire un rosario più grande del rosario che diciamo tutti i giorni. Penso che già noi quando preghiamo il rosario ogni pallina possiamo pensare che per Titus era un periodo di torture e però va ancora avanti il suo rosario. quindi lui legge le proprie sofferenze pensando a Gesù, pensando a Maria. E l'altra cosa, Titus ci dice che in carcere è riuscito a sopravvivere perché l'ha aiutato, lui dice proprio così, lecce homo. Cioè Gesù nella sua passione, nei suoi interrogatori davanti al sinedrio ebraico, il potere romano, nella sua croce. Cioè io penso che il martirio visto dal punto di vista umano è uno scandalo ed è una grande ingiustizia perché è la morte dell'innocente che viene deriso, viene perseguitato, viene annientato. Però il credente in questo scandalo umano legge anche l'aiuto e la grazia di Dio. E io penso che al di là dell'aspetto materiale del martirio di cui parlavamo prima, oggi la figura di Don Titus sia così importante perché lui non ha mai interrotto questo dialogo con il Signore Gesù. Quindi oggi noi leggendo la vita di Titus siamo riportati al Signore e al Vangelo. Alla fine i Santi sono degli strumenti, quindi noi li veneriamo ma perché ci portano al Signore? E Titus ha fatto questo. e ho provato a chiedermi, non so se la risposta sia giusta, per quale aspetto in particolare della fede Titus abbia dato la vita? Perché se il martirio è per fede, allora per quale aspetto della fede cristiana? Titus ha dato la vita? Naturalmente ha dato la vita per la fede, però io penso che l'abbia data soprattutto per quella parte del credo che noi recitiamo così spesso, in cui si dice credo la Chiesa una santa cattolica apostolica romana. Perché Titus ha impegnato la propria vita per salvare le vocazioni religiose sacerdotali, quindi per permettere alla generazione apostolica successiva di esistere nella Chiesa. Se non ci fossero più sacerdoti nessuno consacrerebbe più, nessuno proclamerebbe la parola di Dio, assolverebbe dai peccati. Quindi la testimonianza di fede di Don Titus ha proprio permesso alla Chiesa slovacca di continuare ad esistere, oltre che alla congregazione salesiana. E allora penso che studiando il processo la cosa che mi colpiva di più erano le grandi sofferenze di Don Titus, anche perché con Helena abbiamo dovuto dimostrarle con le perizie mediche, quindi è stato un lavoro molto faticoso. Tante volte io dovevo interrompermi dal lavoro, staccare con la testa, andare a camminare, perché era troppo duro leggere tutte le torture che avevano fatto a Don Titus. Però poi quando è morto Titus ha smesso di soffrire, ma la sua testimonianza resta per noi oggi. E penso che quindi i veri frutti del suo martirio, anche adesso con questa beatificazione, possano svilupparsi. Ieri alla fine dell'incontro a Koscizze un sacerdote si è avvicinato e mi ha detto se dopo il libro sulla vita di Titus si farà un altro libro sulla seconda vita di Titus. Cioè in fondo sulla vita della Chiesa la testimonianza che Titus dà alle nostre vite cambiandole. E questo libro però non lo scrivono delle persone a Roma e in Slovacchia, ma lo scrive tutta la Chiesa insieme. E penso che questo sia importante quando ricordiamo il martirio di Titus. Perché così non è stato vano, così ha un senso. Grazie.